Dopo 11 edizioni, i numeri di questa manifestazione, la qualità dell'ambiente che rappresenta la stessa cerimonia di inaugurazione hanno messo in mostra una situazione davvero straordinaria. È la prima federazione sportiva in campo nazionale e riesce a portare qui 200.000 presenze, 20.000 atleti combatteranno in competizione leale fra di loro in queste giornate. Non è il nostro mestiere, ma noi come organizzatori fieristici, se riusciamo a dare ospitalità ed accoglienza a questi momenti in cui lo sport nazionale sta su Rimini e porta questi numeri, noi siamo estremamente contenti. Gli abbiamo augurato di star bene in città, di star bene dentro i locali della fiera e la presenza di Malagò Giovanni, il presidente del CONI, oggi ha onorato come si meritava la manifestazione. Grazie a tutti.